Salve a tutti, vi ringrazio per la stima che mi state dimostrando, per i commenti, per il fatto che molti di voi giudicano questi video decisamente migliori dei corsi che alcuni di voi purtroppo hanno, purtroppo per fortuna, non voglio giudicarli io, mi state giudicando voi. Che alcuni di voi hanno pagato profumatamente, sono contento insomma di essere andato per alcuni aspetti oltre quello che potreste trovare su tanti libri e quindi insomma se adesso che molti di voi stanno conoscendo questo canale io vi invito sempre a lasciare commenti, a iscrivervi, a attivare la campanella e a condividere anche con i vostri colleghi e amici insomma quello che trattano le lezioni. In questa in particolare voglio proseguire il filone relativo alle competenze dell'insegnante che è un filone, un qualcosa che è intimamente collegato come ho detto nei video precedenti relativi proprio alle competenze dell'insegnante, a quello come impostare un UDA eccetera 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 è intimamente collegato alle metodologie didattiche. Ovviamente parliamo di un video di preparazione per il concorso 2020-2021. Sapete che già per la fine dell'anno sono previste le date del concorso straordinario e io prevedo che per l'inizio dell'anno cominceranno anche ad esserci le date ci sarà insomma il concorso ordinario. Avevo già iniziato a parlare di questo argomento che lo cercate nei video precedenti relativamente a tutto quello che compete all'insegnante, è importante il tipo di comunicazione, il linguaggio, le modalità espressive, il come usare al meglio la comunicazione didattica per arrivare alla gestione del gruppo classe. Questo lo riprendo perché è importante. Perché come detto nei video precedenti affinché la lezione sia possa essere di buona qualità anche l'ambiente deve essere un ambiente positivo quindi essenzialmente detto in parole molto concrete non ci deve essere troppo rumore, non ci deve essere casino. E la classe deve essere formata quindi da un gruppo di persone le quali condividono un qualcosa e quel qualcosa è lo scopo, il target, il goal da raggiungere. Ovviamente un gruppo all'inizio che cosa fa? Si conosce. Quindi conoscenza interpersonale dove sicuramente subentreranno periodi di conflittualità tramite i quali si potrà aggiungere successivamente a una situazione di equilibrio dove ognuno, io parlo anche a livello sociale, antropologico perché di fatto vanno anche psicologico, vanno anche valutati questi elementi, ognuno comincia ad avere un ruolo nella classe e vedrete che in maniera del tutto naturale comincerete a notare anche quegli studenti che si vorranno come leader, non leader in maniera negativa, leader anche in maniera, il mio avviso, positiva. Il gruppo in linea di massima quando è un gruppo che funziona tende a, come dire, se un gruppo funziona bene c'è il gioco di squadra, quindi che cosa è che diminuisce? L'individualità è normale, quindi deve nascere una fiducia generale che si manifesta quando il gruppo agisce nel proprio insieme e quindi è molto importante cercare di dare importanza alla gestione della classe e alla gestione del gruppo. In antitesi sappiamo che si può creare un gergo, viene detto il comportamento del branco. ossia un comportamento non positivo, adesso uso questa parola virgolettata, in cui viene fuori la viglia a caccine e quando il professore è distratto, non è un giro continuamente tra i banchi, magari gli studenti sono cacciaroni, eccetera, eccetera, ne approfittano per fare casino, fare comunella e approfittarsi purtroppo anche in maniera drammatica, come riportano alcuni episodi di cronaca, quindi approfittano per fare confusione ed abbassare quindi radicalmente la qualità e il livello della lezione. Ovviamente il gruppo classe è un gruppo che non viene, che non si forma in maniera naturale come un gruppo di amici, ma è un gruppo che si forma in maniera formale e deve essere gestito quindi da chi? Dall'insegnante che viene scelto in maniera istituzionale, quindi il leader che si formerebbe in maniera del tutto naturale viene forzatamente e giustamente scelto in via secondo le vie istituzionali, perché ovviamente poi lo scopo del gruppo che fa parte della scuola è uno scopo educativo, è uno scopo di apprendimento, quindi l'insegnante ovviamente fatte queste premesse dovrà sicuramente avere le responsabilità di rendere piacevole il clima che c'è nella classe. Ovviamente questo che vi sto dicendo appartiene più o meno direttamente a tutte le metodologie didattiche, ovviamente se si utilizza una metodologia, quindi questo lo potete mettere dappertutto questo che vi sto dicendo, perché è ovvio che non si può utilizzare una metodologia didattica in cui c'è una situazione negativa, un clima spiacevole, conflittuale, dove l'apprendimento non sia organizzato, quindi è fondamentale organizzare l'apprendimento, organizzare e progettare l'apprendimento. Quindi quello che vi dico gioca un ruolo fondamentale, perché bene o male, non dico che sono un pochettino quelle frasi jolly, che bene o male stanno bene in qualsiasi risposta, perché nessun docente, nessun collega vi potrà mai dire relativamente ad una metodologia didattica che questi aspetti sono sbagliati. Ovviamente deve l'insegnante fare da congiunzione, deve essere l'anello di congiunzione, deve essere, deve fare da catalizzatore. Cioè, deve cercare che si formi una relazione positiva tra gli alunni, quindi una relazione sociale positiva tra gli alunni, tra gli alunni e l'insegnante e tra l'individuo, l'alunno specifico e l'insegnante. E questi ci saranno sempre nella nostra vita, ma nel nostro lavoro in particolare, noi dovremo anche essere risolutori di problemi. Questi ci saranno sempre in qualsiasi lavoro, soprattutto in quello dell'insegnante, quindi ci sarà sempre uno studente che avrà dei problemi particolari, che avranno studenti che avranno delle carenze, problemi che possono esserci anche tra colleghi, problemi che ci possono essere con il dirigente scolastico, eccetera, eccetera, eccetera. Bisogna sicuramente cercare di valorizzare sia lo studente che la classe affinché ognuno possa esprimere le proprie potenzialità e, a mio avviso, non è anche sbagliato fare emergere i leader naturali della classe, ossia quelli che magari, che ne so, vogliono creare il gruppo WhatsApp affinché si possano condividere gli esercizi, i compiti dati in classe. Se qualcuno manca, ci si può... Ormai è molto semplice fare le foto degli appunti e condividerli con gli studenti che magari sono in malattia. Poi, altre caratteristiche è dare fiducia alla classe e mostrarsi fiduciosi quindi dare fiducia anche... La classe deve avere fiducia nell'insegnante. Questo è un qualcosa che si acquisisce col tempo ed è qualcosa di estremamente difficile e lungo perché ci sono studenti che vedrete si fidano dal primo giorno e studenti che, prima che vi daranno retta, vi faranno penare. Cercare di facilitare, insomma, la... Cioè, far sentire ogni studente si dice così, no? A casa propria. Cioè, mettere a proprio agio... Mettere a proprio agio gli studenti. fare anche dei processi intrapsichici quindi intrapersonali per quanto riguarda noi stessi di autovalutazione confronto con i colleghi Cioè, diciamo che anche noi dobbiamo sempre porci dei dubbi e dobbiamo sempre pensare al nostro accrescimento culturale. Dobbiamo essere anche noi dei leader perché dobbiamo dare una direzione al nostro direzionalità al nostro intervento sia nel breve che nel lungo termine. Sicuramente sarebbe meraviglioso riuscire a conquistare la stima di tutti gli studenti. Vi dico che probabilmente sarà difficile. Ad esempio, io con i miei video mi accorgo che molti di voi apprezzano quello che faccio qualcuno no adesso io non so se sono alcuni contatti mi sembrano fake sinceramente è anche probabile che siano persone che hanno dei conflitti di interessi perché ovviamente loro vi vendono video anche video materiali o slide pdf a caro prezzo e qui trovate tante materiali gratuitamente è ovvio che in questo caso nasce il conflitto di interessi quindi è più facile che io mi ritrovi contro tutti quelli che fanno corsi video pagamento però io ho deciso di non voler lucrare sotto questo aspetto di voler dare a tutti questo materiale in maniera gratuita quindi essere è importante anche essere empatici quindi capire esigenze del gruppo dello studente cercare di non avere pregiudizi vabbè questo non ve lo scrivo perché tanto tanti colleghi cioè è normale avere pregiudizio è normale che noi ci basiamo anche sulla su ciò che che ci sembra su ciò che appare normale però insomma vi dico state attenti perché poi magari col tempo ci rendiamo conto ci possiamo rendere conto vi chiedo scusa che ha suonato il telefono per motivi di lavoro di famiglia lo devo tenere aperto magari ci rendiamo conto che le nostre impressioni possono anche essere sbagliate dobbiamo promuovere il dialogo tra la classe perché dal dialogo e dal confronto nasce sempre qualcosa di buono ovviamente un dialogo nel rispetto delle regole nel rispetto dell'altro un dialogo che non sia un dialogo violento ma sia un dialogo con delle proprie regole si alza la mano si chiede di poter parlare di poter esprimere il proprio parere bene io volevo iniziare già con la didattica applicata e mi correggo uso il condizionale avrei voluto iniziare anche con la didattica applicata perché all'inizio del video vi ho detto finiamo con le competenze dell'insegnante e iniziamo con le metodologie didattiche e quindi volevo parlare dei principi del metodo didattico e quindi volevo poi parlare nello specifico delle varie metodologie didattiche quali ad esempio la didattica la lezione frontale che è stata forse una delle prime sicuramente uno dei primi metodi utilizzati quello più comune piuttosto che la didattica laboratoriale problem solving il gioco dei ruoli il mastery learning il role playing la peer education alcuni lo chiamano anche il peer to peer diciamo che non sono c'è alcune metodologie hanno nomi molto simili però non sono esattamente la stessa cosa molte metodologie noi le abbiamo apprese dagli americani dagli Stati Uniti e alcune addirittura non le abbiamo nemmeno tradotte e quindi ancora relativamente a determinate metodologie che potrebbero anzi sicuramente vi saranno chieste sia nella prova presidettia che nella prova scritta ancora addirittura noi usiamo l'inglese non le abbiamo tradotte perché in realtà noi le abbiamo prese stravolate e fatte nostre però in realtà molte delle metodologie che vi dirò a questo punto nei prossimi video non sono nate in Italia allora io con questo vi ringrazio vi saluto vi auguro un buon proseguimento di giornata e soprattutto di studio spero davvero tanto che le persone che ce la stanno mettendo tutta possano vincere questo benedetto concorso mancano veramente tanti insegnanti spero che i migliori soprattutto quelli che amano l'insegnamento possano diventare presto di ruolo e avere qualche garanzia in più e con questo dai io vi saluto al prossimo video lasciatemi i commenti tutto quello scrivete tutto quello che pensate nel bene o nel male che tanto non cancello nulla alla prossima